Elezioni amministrative in Alta Irpinia, tanti sindaci riconfermati ma tante anche le sorprese. Ha confermato il primo cittadino a Calabritto, a Senerchia, a Monteverde e a Teora. Tante le sorprese, siamo a Lioni dove c'è stata una vittoria schiacciante dell'ex assessore Iurigioino, oggi sindaco della cittadina Alta Irpina. Il nuovo primo cittadino di Lioni ha vinto con tante quote rosa elette nel suo nuovo consiglio comunale. Ma ascoltiamo proprio le parole di Iurigioino a poche ore dalla sua elezione a sindaco di Lioni. Forti emozioni, veramente tante emozioni e visto il risultato anche grandissima responsabilità. Lioni ha scelto un sindaco giovane, un sindaco che comunque ha già amministrato in passato, quindi non manca l'esperienza. Noi all'inizio della campagna elettorale avevamo posto delle domande ai cittadini di questo comune. I cittadini di questo comune hanno risposto, hanno risposto con questi termini, unità, condivisione, tutti. Da oggi io uso questo slogan, saremo tutti amministratori di questa comunità. Dall'altra parte hanno iniziato invece una campagna elettorale con gli insulti, provocazioni. E in questo i cittadini di questo paese hanno anche risposto. Però io quando ho iniziato questa campagna elettorale, alle persone che mi hanno chiesto il motivo di questa candidatura, ho risposto sempre allo stesso modo. Ho detto che ognuno di noi deve a un certo punto della propria vita dare un contributo per questa comunità. E lo può fare nelle istituzioni, lo può fare nell'associazionismo, nel volontariato. Poi c'è un'altra motivazione, quella di raggiungere il sogno, che tutta la qualità non è permessa di una persona americana. In conclusione, il messaggio del sindaco di Lioni ai suoi concittadini? Il messaggio è proprio questo, quello che ho detto dall'inizio. Noi abbiamo tanti problemi, come tanti comuni, però abbiamo tante opportunità. Sia i problemi che le opportunità, nel primo caso, riusciremo a risolverli, nel secondo riusciremo a cogliarli, se staremo uniti e io penso che questa comunità ha bisogno di unità e pacificazione innanzitutto.